Conclusa l'operazione Turdus Aureus nell'abito di una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri CITES insieme ai carabinieri forestali di Perugia e dal Centro Anticrimine Natura di Udine. Sono stati impiegati nel complesso 131 militari, finalizzata dal contrasto del traffico illegale di avifauna destinata ad uso come richiami vivi in ambito venatorio. L'operazione ha portato a molteplici perquisizioni a carico di 14 indagati, 5 residenti in Toscana, 2 in Lombardia, 2 in Campania e 5 in Umbria e al sequestro di ingenti quantitativi di denaro in contanti per oltre 141 mila euro. Sono stati sequestrati inoltre 164 esemplari morti di avifauna appartenente a specie protetta e particolarmente protetta e 763 esemplari vivi appartenenti alle specie Tordi, Merli, Cesene, privi di anello identificativo o con anello identificativo alterato che sono stati affidati alle cure di centri di recupero animali selvatici con finalità di riabilitazione propedeutica alla loro liberazione in natura. Gli esemplari catturati prevalentemente in natura dai nidi generavano ingenti guadagni. Un esemplare può valere fino a 300 euro per un giro di affari di centinaia di migliaia di euro. Uno degli indagati è stato anche arrestato per il reato di detenzione abusiva di armi clandestine perché trovato in possesso all'interno della propria abitazione abilmente occultato di un fucile da caccia con matricola a brasa. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di medicinali dopanti che hanno la capacità di indurre l'attività canora degli esemplari maschi forzando nei tempi naturali. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, sostituzione di persona, frode in commercio, maltrattamento di animali, furto e furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, detenzione abusiva di armi, alterazione di armi, armi clandestine e detenzione illegale di munizioni.